Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa è la breve anteprima di, diciamo, un video sponsor che vado a fare per i vincitori del mio contest. Di quale contest sto parlando. Ve lo lascio sopra in alto, in quanto ho solo 5 caselle a mia disposizione, sapete le famose I che spunono qua sopra. Praticamente hanno vinto il mio contest 4 persone. Dovranno vincere a metà, però visto che o ne escludevo due, o ne aggiungevo una, ho preferito aggiungerne una. A questo punto quindi vedrete dei loro brevi video dove appunto introducono il loro canale e cercare di metterli sopra in alto quando il video partirà di ogni singola persona del loro canale. Ci tengo a dirvi a tutti voi che vedrete questo video di iscrivervi al loro canale. Li trovate anche sotto, nella descrizione, cercherò di metterli. Se non saranno in descrizione, comunque saranno in primo commento, in evidenza, appunto, delle I, semplicemente. Le persone sono comunque tenute tranquillamente a poter pubblicizzare il loro canale sotto. Quindi sono le persone che hanno vinto il contest. Ripeto, non mi fate lo spam sotto ai video. Grazie. Appunto faccio questi contest apposta per aiutare tutti. Però ovviamente dovete guadagnarvi la uscita. Quindi vi chiedo gentilmente di iscrivervi a queste quattro persone. Poi ovviamente chi è già iscritto a alcuni di loro non è obbligato ad iscriversi, anche perché non si può fare. Vi chiedo appunto, accortesamente, visto che hanno vinto un contest dove comunque bisogna rispondere a una domanda abbastanza comunque non difficilissima, però comunque non del tutto facile. Ecco, per chi non ha vinto, tranquilli, aprirò poi un altro contest che ho già filmato, già girato tutto. Ovviamente darò il tempo di pubblicizzare questo video. Quando raggiungerò un certo tot di visualizzazioni, poi farò partire l'altro per dare comunque spazio appunto a pubblicità per queste persone. Vi lascio al loro video. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. E a loro soprattutto. Iscrivetevi sotto nei commenti, in quale canale vi piace di più, in quale canale vi siete iscritti, senza spammare, mi raccomando. Un saluto a tutti e buona sera. Ciao a tutti e benvenuti. Questo è il mio canale, io sono Jo, la masca. E questi sono rispettivamente Fibi e Nathan. Scusate se la qualità del video non sarà eccelsa, però praticamente ho avuto un problema col telefono e quindi prima di qualche giorno non potrò fare video di buona qualità. Però ho deciso di fare questo piccolo video per Sara, perché ho vinto il suo contest e ho deciso di partecipare. Ciao Sara, grazie mille per questa opportunità. E niente, cosa volete sapere? Il mio canale riguarda bambole Reborn e comunque contenuti più o meno che hanno a che vedere con l'infanzia e con cose divertenti. Perciò se volete divertirvi con me, passate a trovarmi. Io sono Jo, la masca Reborn. Ciao! Ciao amici, ciao amici! Benvenuti! Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Stefania del canale Stefi Channel, scusate di gatto in sottofondo. Ringrazio Sara per avermi dato l'opportunità di vincere. Mi rendo conto che è un video forse particolare questo, perdonatemi. Grazie Sara per avermi dato questa opportunità, ovviamente tramite il tuo contest ho vinto, quindi mi sono beccata un po' di pubblicità. Cosa troverete nel mio canale e perché dovreste iscrivervi? Dunque porto la qualunque cosa, ma veramente anche una mosca che è Vora io la metto lì sul canale. Ma mi piace variare, avevo iniziato la mia carriera su YouTube con i trucchi, col make-up, ma mi sono accorta che è sempre la stessa solfa poi e noiosa. Quindi ho deciso di variare con delle classifiche, ricette, parodie e niente eccetera eccetera. Quindi spero che voi passerete dal mio canale. Vi mando un mega bacio, vi mando anche a Sara e vi aspetto. Ciao! Salve a tutti, mi state chiedendo chi sono? Sono FCBTV. Ok, non sapete chi sono? Bene. In descrizione sicuramente troverete il link al mio canale, quindi vi invito a passare tratto un po' di tutto. e soprattutto tanto trash, quindi il divertimento è assicurato. Che dire, vi aspetto sul mio canale, ci sono le varie playlist, così potete scegliere la tipologia di video che più vi piace e soprattutto vi aspetto sotto nella sezione commenti per scambiare qualche chiacchiera con voi. Ehi, ciao! Ancora non mi conosci? Perfetto, io sono Alexandra Channel. Perché il mio canale è adeguato a tutti? Semplice, perché sul mio canale ci sono tutti i contenuti che cercate. Video make-up, video ricette, challenge, backstage, di video divertenti, di tutto e di più. Ancora non c'è tutto quanto, ma molto presto ci saranno tutti i video. Vi lasceranno sicuramente il link del mio canale in descrizione e se vi va iscrivetevi, lasciate un like e se vi iscrivete ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!